Lui girò l'angolo e guardò il portafoglio che teneva in mano. Il bottino di oggi era buono. Il portafoglio era pieno e Teodoro si rallegrò perché poteva rilassarsi e vivere per se stesso per alcuni giorni. Bene, ora è il momento di rilassarsi e andare al parco. Pensava mentre camminava lentamente lungo il viale verso il parco. Sedersi su una panchina e finalmente vedere quanto aveva guadagnato oggi. Sembrava che ci fosse una somma non trascurabile lì. Prima di tutto affitterò un appartamento, farò una doccia, forse persino un bagno. Dormirò bene e poi vedremo. Sì, devo anche cambiarmi perché il mio aspetto è piuttosto trasandato. La gente inizia a notarlo e a guardarsi intorno con sospetto. Ho bisogno di essere visto come una persona normale che non attira attenzione. Si avvicinò alla panchina, guardò intorno e si sedette. Non c'era nessuno intorno e poteva tranquillamente contare quanto aveva. Mettere il portafoglio nella tasca laterale e sbarazzarsi di esso il più presto possibile. Fischiò quando vide un'impressionante mazzetta di banconote accuratamente disposte dentro il portafoglio. Le estrasse, le arrotolò e le mise in tasca. Poi controllò se c'era altro. E mentre stava per gettarlo via, palpò qualcosa in una tasca laterale chiusa con una zip. C'era una piccola foto e un qualche tipo di nota. Nella foto c'era il volto di una piccola ragazza con gli occhi tristi. Teodoro girò la foto nelle mani, poi passò alla nota. Scorrendo con gli occhi le prime righe, sorrise. Chiaramente, un papà che scriveva alla sua bambina. Stava per gettare via quel pezzo di carta con la foto, ma il suo sguardo catturò un'altra linea. Si accigliò e continuò a leggere. Sedeva in cucina e beveva il tè. Sua moglie stava cuocendo delle torte e lui la guardava mentre si piegava sul forno per estrarre la torta pronta. Valerio, guarda come è venuta soffice. Ogni volta, esce sempre meglio. Uh! Guardava sua moglie e pensava che vivessero insieme da dieci anni, ma sembrava che fossero già cinquanta. L'aveva vista per la prima volta all'università. Stava camminando nel corridoio con un'amica. I suoi capelli rossi svolazzavano mentre camminava. Gli era piaciuta subito e decise di conoscerla meglio. Si scoprì che aveva già un fidanzato e stavano per sposarsi. Decise di dimenticarla. Dopotutto, ci sono molte belle ragazze liberi intorno. Ma per qualche motivo, quei capelli rossi non gli davano pace. Dopo aver sofferto per una settimana, decise di conquistarla e si mise decisamente all'opera. Scoprì che cosa le piaceva. Quale musica ascoltava. Quali dolci mangiava. scoprì che amava i gigli bianchi e cominciò a regalarli a lei ogni giorno. Naturalmente, sotto tale assedio, nessuna donna avrebbe resistito. Così anche Vera finalmente gli prestò attenzione. Ma lei si rivelò molto più seria di quanto lui pensasse. E dopo che si frequentarono per un intero anno, capì che avrebbe ottenuto intimità da questa ragazza solo sposandola. In quel momento era innamorato di lei e pronto a fare qualsiasi cosa. Quando la accompagnava al dormitorio, la baciava dolcemente sulla guancia e le augurava buonanotte, si trattenne a stento dal gettarsi su di lei. Ma sapeva che se si fosse permesso tale sfrontatezza, l'avrebbe persa per sempre. Lei era molto delicata e vulnerabile, come quei gigli che continuava a regalarle ogni giorno. Da lei andava alla sua amica, che era pronta a tutto pur di avere Valerio accanto. Faceva l'amore con lei, immaginando che fosse Vera e non ne aveva mai abbastanza fino all'alba. Cosa ti succede? Non ce la faccio più. Mi tormenti fino all'alba. Devo anche andare a lavorare e stare in piedi tutto il giorno. Svetlana lavorava come parrucchiera in un salone di bellezza. Lavorava tutti i giorni, perché per pagare l'affitto e vestirsi bene erano necessari soldi. Quindi lavorava ogni giorno per apparire presentabile. Sognava che Valerio finalmente decidesse di sposarla. Vedeva che stavano bene insieme, che avevano notti meravigliose, che lui riceveva tutto ciò di cui avevano bisogno. E cosa altro serve a un uomo? L'importante è che una donna lo soddisfi a letto. Va bene. Ho capito. Oggi riposa. Non verrò. Ho delle cose da fare. E se venissi da me? Potremmo stenderci insieme. Guardare un film? Io preparerò qualcosa. Anzi no. Meglio se ordiniamo, perché a dire la verità, non sono brava a cucinare. Non verrò. Ho impegni. E il film puoi guardarlo anche senza di me. Ascolta, Valerio, perché non ti trasferisci da me? Perché dobbiamo comportarci come adolescenti? Stiamo bene insieme. Viviamo insieme. Sei impazzita? O ti sei davvero sentita male per il fatto che vengo da te ogni notte? Svegliati, ragazza. Vengo da te per soddisfare le mie esigenze. Niente di più. Non l'hai ancora capito? Svetlana morse il labbro per non piangere. Si sentì ferita. Pensava che Valerio si fosse innamorato di lei. Mi sposerò, Svetlana, con un'altra, con una casta, che di notte dorme, mentre tu mi intrattieni in quel momento. Capisci la differenza? Voglio sposare una vergine, non una donna disinibita come te. Svetlana si calmò, indossò un accappatoio e andò a preparare il caffè. Prendi pure la tua bandiera. Se volevi offendermi, sappi che non ci sei riuscito. E ora ti dirò una cosa. Noi due ci completiamo perfettamente, come partner. Ma, a quanto pare, non sono abbastanza buona per te, nonostante il fatto che tu provi un piacere selvaggio con me di notte. E chissà cosa avrai con quella ragazza, nella tua vita. Ma prova, e prima sposala sicuramente. Perché persone come lei, evidentemente, meritano solo questo. Ora vattene, vai via. E non voglio più vederti qui. Camminava per la strada, pensando che forse aveva offeso Svetlana senza motivo. Dopotutto, lei aveva ragione. Lui si divertiva con lei. E stava davvero bene con lei. Vabbè, passerà. Anche se questo comportamento da parte sua è la prima volta. È sempre stata dolce con me. Anche se io sono stato piuttosto rude con lei. Lui e Vera erano andati al cinema. Avevano passeggiato nel parco. E poi lui l'aveva riaccompagnata al dormitorio. Le fece la proposta. E Vera accettò di sposarlo. Solo finiamo l'università. E dobbiamo anche affittare un appartamento. Perché dobbiamo vivere da qualche parte. Ho un appartamento. Non preoccuparti. Me l'hanno comprato i miei genitori quando ho iniziato l'università. Poi andremo da loro. Ti presenterò a loro. Oh, sono così nervosa. E se non gli piacessi? Non dire sciocchezze. Come potresti non piacere? A proposito, forse dovremmo andare a trovare tua nonna. Così vedrà che sua nipote è in buone mani. Vera gli raccontò che era stata cresciuta dalla nonna. I suoi genitori erano morti quando era molto piccola. Vera entrò nel dormitorio. E Valerio si dirasse da Svetlana. Non era stato da lei per quattro giorni, le mancava. E aveva molto bisogno di affetto, che solo lei poteva dargli. Decise di comprare del vino, per redimersi in qualche modo. Svetlana non gli aprì la porta. Gli chiese solo perché fosse venuto. Svetlana, cosa? Continueremo a parlare attraverso la porta. Eh, apri, ho sbagliato con te. Lo so, per favore perdonami. Pensavo solo che anche tu stessi bene con me, e che non pensassi nemmeno al matrimonio. Naturalmente, non sono una donna. Sono solo una macchina per soddisfare i bisogni. Basta, sai, ci ho pensato e ho deciso. Forse mi sposerò anch'io. Soddisferò un marito, non un idiota di passaggio che si crede chissà chi. Quindi vattene da qui e dimentica la strada per venire qui. Valerio non se lo aspettava. E fu sorpreso di scoprire che gli dispiaceva pensare che Svetlana potesse essere con qualcun altro. E che qualcun altro potesse stare bene con lei come stava lui. I genitori di Valerio gradirono Vera. Erano felici per il figlio e contenti che avesse scelto una ragazza semplice. Non una delle tante bambole presenti al giorno d'oggi. Iniziarono a vivere insieme. Vera si impegnava a preparare la colazione per il marito affinché mangiasse prima di andare al lavoro. Nel frattempo si preparava anche lei, poiché il capo rimproverava chiunque dei dipendenti fosse in ritardo. Valerio era seduto alla riunione e non sentiva ciò che veniva detto. Pensava a Vera, alla sua vita e a cosa stava succedendo nella loro famiglia. Vera continuava ad adorare follemente la moglie, ma in lui cresceva un senso di insoddisfazione. Vera a letto era come un tronco. Lui cercava di insegnarle, ma lei per qualche motivo si imbarazzava. Diceva che era molto vergognoso e che non avrebbe fatto ciò che lui le chiedeva. Vera, non immagini quanto potresti stare bene. Devi solo rilassarti e provare a fare come ti chiedo. No, Valerio, mi vergogno. Vedi bene che non riesco nemmeno a togliermi il pigiama davanti a te, perché non è giusto. Io sono tuo marito, non un estraneo. Così vissero un anno, ma nulla cambiò. Lei continuava a tirarsi indietro di notte, e lui ne era stanco. Durante la pausa pranzo, Valerio e un collega decisero di andare a mangiare in un caffè. Sedevano al tavolo, chiacchierando pigramente mentre aspettavano i piatti ordinati. La gente continuava ad arrivare e nel caffè non c'erano più tavoli liberi. Valerio vide due ragazze che erano entrate probabilmente per pranzare e ora guardavano deluse la sala. Notando che i tavoli erano tutti occupati. Una delle ragazze era sconosciuta a lui, l'altra era svetlana, che non vedeva da tempo e rimase piacevolmente sorpreso quando il suo sguardo si posò su di lei. Era bellissima, aveva una figura perfetta, e indossava molto bene i suoi abiti. Portava un taglier nero con gonna al ginocchio che le aderiva perfettamente sui fianchi, una camicia bianca che le stava benissimo, e una giacca semplicemente appoggiata sulle spalle. Alzò la mano e svetlana notò il gesto. Lei guardò Valerio e sorrise. Si avvicinarono al loro tavolo, lui offrì di unirsi a loro. Siamo solo io e un amico qui, quindi unitevi a noi. Non riusciva a togliere gli occhi da svetlana. Era molto cambiata, diventata più femminile, calma, sicura di sé. Come stai, svetlana, novità? Non ci vediamo da tanto, forse possiamo incontrarci stasera qui, chiacchierare un po'. Ho capito che lavori qui vicino. Salone di bellezza orchidea. È proprio dietro l'angolo. Sì, ci vado. Mi piace molto tagliarmi i capelli lì. E tu che lavoro fai là? Vedo che non sei un parrucchiere, forse un'amministratrice. Svetlana alzò i suoi grandi occhi castani su di lui. Lo guardò pensierosamente e disse. No, non hai indovinato. Sì, nemmeno provare. Non ci riuscirai. Ricordo cosa pensavi di me. Comunque, la bellezza non ha importanza. Svetlana, sei ancora arrabbiata con me? No. Ho solo imparato a capire meglio le persone. Ora so chi sei veramente. Va bene, non pensarci. È solo che oggi ho avuto una giornata molto pesante. E stasera sediamoci. Sento che avrò voglia di bere un po' per rilassarmi. Valerio non vedeva l'ora che arrivasse la sera. Svetlana aveva lasciato un'impressione indelebile su di lui. Gli piacevano quel tipo di donne. La semplicità della moglie stava cominciando a stancarlo. E quello che accadeva ogni notte era indescrivibile. E cominciò a sentirsi nauseato dalla vita coniugale. Svetlana arrivò al caffè alle otto di sera, quando Valerio pensava che non sarebbe più venuta. Ti trattengono così tanto al lavoro? Sono già le otto. Il giorno lavorativo per tutti è finito da tempo. Dimentichi, il salone di bellezza non è un ufficio. E lavoriamo fino alle nove. Quindi? Sono persino uscita prima. Le ragazze devono stare ancora un'ora al lavoro. E chi viene a quest'ora? Naturalmente, molte persone la sera vanno a ristoranti, a teatri o altrove. Ovviamente, hanno bisogno di un'acconciatura, trucco, manicure e così via. Quel che è ora il momento di maggior lavoro, noi riposiamo di giorno. Ma al mattino e alla sera lavoriamo di più. Allora, non ho capito. Tu che lavoro fai là? Ho quasi perso la testa a pensarci dopo pranzo. Sì, continui a deludermi. Sono la proprietaria. Il salone è mio. Ma vedo che nemmeno ti è passato per la testa. Valerio la guardava sorpreso, rendendosi conto che lei aveva ragione. Non aveva mai pensato a quella possibilità. Anche se ora vedeva che lei sembrava davvero la proprietaria. Comunque, aveva sempre avuto quell'aspetto. Scusa, Svetlana. Semplicemente, sei sempre stata magnifica. Anche quando lavoravi come semplice parrucchiera. Ordinarono del vino, della frutta. Valerio spense il telefono. Ma prima inviò un SMS alla moglie. Le disse che si sarebbe trattenuto al lavoro e che sarebbe tornato tardi. È per non essere disturbato dalla moglie? Sì, non voglio parlare con lei ora. Sono in vena di trascorrere una serata piacevole con te. Capisco. Sai, Valerio, cosa mi è sempre piaciuto di te. Che dici la verità? Un altro uomo avrebbe cominciato a girarci intorno, dicendo che non voleva che il capo lo richiamasse al lavoro. Un altro avrebbe detto che dovevano chiamarlo gli amici e che non voleva andare con noi in sauna stasera e molte altre cose. Apprezzo l'onestà. Allora, racconta, come va la vita coniugale? Anche se qualcosa mi dice che non va molto bene. E perché pensi così? Forse voglio solo passare del tempo piacevole con un vecchio amico? Sì, sarei d'accordo con te se tu e tua moglie foste insieme da almeno dieci anni, ma vivete insieme da non più di un anno, giusto? Ho ragione? Sì, è già un anno che siamo insieme. E spegni il telefono per non essere infastidito dalle sue domande. Che secondo te non ha il diritto di farti? Ascolta, dovresti lavorare come psicologa, non tenere un salone di parrucchiera. Beh, sono psicologa di formazione. Cosa intendi? Perché allora sei diventata una parrucchiera? Ho sempre voluto fare solo ciò che mi piaceva. Ora che ho aperto il mio salone, lavoro anche nella mia professione, aiutando le persone a risolvere i loro problemi familiari. Perché non mi hai mai detto prima che eri una psicologa? Pensavo che fossi arrivata in città, avessi fallito gli esami e ora, per non tornare dai tuoi genitori, lavorassi in un salone. Beh, non mi hai mai chiesto nulla. Non eri interessato alla mia vita, mentre io lavoravo e studiavo. Comunque, ora non è più importante. Allora, ho ragione. C'è qualcosa che non va con tua moglie, e ti preoccupa tanto. Così tanto che da 15 minuti non riesci a staccare gli occhi dal mio decollete. Immagina che io sia un dottore. Raccontami i tuoi problemi. Ti darò alcuni consigli. Vedrai che tutto si sistemerà. Valerio la guardò attentamente e decise di raccontarle tutto. E lei ascoltò la loro storia di vita coniugale. In generale, non so cosa fare. Ma in realtà, me lo immaginavo così. Ti dirò direttamente. Dovrei parlare con tua moglie. Non c'è bisogno di lavorare con te. Sei un bravo ragazzo. Ami tua moglie. Non vuoi ferirla. E anche soffrendo così tanto. Non hai ancora preso un amante. Il problema è proprio in lei. A quanto pare la nonna, volendo che sua nipote mantenesse l'onore fin da giovane, le ha talmente lavorato il cervello che ora lei ha sviluppato un complesso. Quindi devi decidere. Se vuoi, venite insieme. Da parte mia, ti assicuro che non darò nessun segno di conoscerci, per non imbarazzare ulteriormente tua moglie. Capisco. Sei davvero forte, Svetlana. Sai, in realtà faccio un lavoro che non amo. Non mi piace il mio lavoro. Ho sempre sognato di coltivare qualcosa. Magari vendere verdure al mercato. Immagini? Sono cresciuto in città. I miei genitori non sono poveri. Ma io non sogno di essere un banchiere. Ma un semplice contadino. Beh, perché un contadino? È un desiderio normale e, tra l'altro, molto nobile, solo non capisco perché me lo stai dicendo ora. Semplicemente ti guardo e penso. Tu lavoravi come parrucchiera, servivi le persone, ma studiavi anche all'università. E non ti vergognavi. E ricordo che dicevi di amare il tuo lavoro. Pensavo fosse la tua professione. E ora sei la proprietaria del tuo salone. Una psicologa. Una donna bella e determinata. È fantastico. E io invece mi sono perso in questa vita. Valerio aveva cercato di convincere Vera per una settimana ad andare con lui da uno psicologo. Quella sera con Svetlana non era finita come lui aveva sognato. Lei gli aveva detto che il passato non può tornare e che aveva una persona amata a cui teneva molto. Non voglio andarci, non sono malata, o pensi che io abbia problemi mentali. Vera, non ti sto portando da uno psichiatra, ma da uno psicologo. Credimi, sono due professioni diverse. No, non ci andrò. Penso che tra noi vada tutto bene. Probabilmente dobbiamo solo avere un bambino e poi tutto si sistemerà. Valerio mangiava una torta che la moglie aveva cucinato, pensando che quella sera sarebbe rimasto di nuovo dalla sua amante. Vera non era cambiata. Era sempre come una ragazza ingenua, anche se aveva già 33 anni. Non avevano figli. Di nuovo dove stai andando? Tornerai a dormire a casa stasera o passerai la notte fuori? Non dormo la notte, ti aspetto sempre. E perché aspetti? Si rese conto di essere molto arrabbiato con la moglie e che l'unica cosa a cui pensava era di lasciarla e divorziare. In sostanza, lei era inutile. Non sapeva fare altro che cuocere torte. Perché sei arrabbiato? Perché sono un uomo, capisci? Mi disgusta persino guardarti. Sai che esiste della bella biancheria intima leggera e lavorata che su un corpo femminile sembra bellissima. Non posso guardarti, quindi divorziamo. Voglio un bambino, gli anni passano, e devo ancora crescerlo. Con te, se accade, porterò il bambino alla prima classe come un vecchio grigio. Non ce la faccio più. Non ho bisogno delle tue torte. Posso mangiare ovunque. Ho bisogno di altro. Ho bisogno di una famiglia. Non di una moglie sciocca con le sue torte. Entrò in camera da letto e cominciò a fare le valigie. Valerio! Per favore non andartene. Prometto che tutto andrà bene. Proviamo a fare un bambino stasera. Capisco che devo partorire presto, altrimenti sarà troppo tardi, ti prego. Valerio era al settimo cielo quando in ospedale confermarono che sua moglie aspettava un bambino. Ma la sua gioia fu prematura. Durante la gravidanza, strane cose accadevano a Vera. Aveva continue crisi isteriche. Era infastidita dal suo ventre che cresceva. Non le piaceva che il bambino si muovesse e visse tutti i nove mesi come se fossero un inferno. Ma quando nacque una bambina, fu l'uomo più felice del mondo, tenendo la piccola figlia tra le braccia. E capì che non aveva bisogno di nessun altro e che ora aveva qualcuno per cui vivere. Chiamò la figlia Natalia. La bambina cresceva molto debole, nervosa e ammalava spesso. I medici dicevano che tutto ciò era dovuto al fatto che la moglie, quando era incinta, era stata molto nervosa. E ora si rifletteva sulla ragazza. Valerio si dimise dal lavoro, vendette la macchina e fece le valigie. I suoi genitori gli dissero che avevano comprato una splendida casa in campagna con un vasto terreno e un magnifico giardino. Gli dissero di prendere la bambina e di venire da loro. Vera uscì dalla cucina e vide Valerio che stava mettendo i vestiti della figlia in una valigia. Hai già fatto le mie valigie? No, non ho intenzione di farlo. Tu resti qui. Dopo il divorzio venderemo l'appartamento. Ma per ora vivi qui. Non venire da noi con Natalia. E nel divorzio dichiarerai che rinunci al bambino. Capito? E dove dovrei andare poi? Che tipo di madre sei? Non hai nemmeno chiesto di tua figlia. Vai dove vuoi. Non mi interessa. E perché dovrei volerla? Eri tu che volevi un bambino. A me non serve, quindi prendila. Non capisco solo perché non puoi lasciarmi l'appartamento. Dopotutto, ti ho dato una figlia. Vedremo. Per ora vivi qui e trova un lavoro. Non ti manterrò più. Natalia effettivamente si rinforzò. L'aria era fresca. C'era sempre disponibilità di verdure e frutta fresche. E lei iniziò a migliorare. Valerio si dedicò al giardinaggio e all'orticoltura. Come aveva sempre sognato. Poi iniziò a portare verdure e frutta in città. Inizialmente vendeva da solo. Poi assunse un venditore. E infine aprì il suo negozio di ortaggi dove lavoravano già quattro persone. Natalia andava già a scuola. Inizialmente Valerio era molto preoccupato che lei sentisse la mancanza della madre. Ma i suoi genitori lo aiutavano e la ragazza cresceva come in una famiglia completa. Quando compì 16 anni, Vera arrivò a trovarli. Appariva terribile e si poteva vedere che aveva iniziato a bere. Dove è mia figlia? Voglio che sappia di avere una madre, chiese dal portone. Nessun problema. Tua figlia tornerà presto da scuola. Puoi dirglielo. Non temi che lei voglia restare con me. Dopotutto è una ragazza. Ha bisogno di una madre? No, non ho paura. Natalia tornò da scuola. Agirò con disgusto la donna che stava sul portone. Ciao papà. La nonna mi ha chiamato. Oggi verrà a prendermi in città. Andremo a vedere uno spettacolo. Sai quanto desideravo vederlo. Poi guardò la donna e chiese. Buongiorno, chi è lei? Natalia, voglio presentarti. Questa è tua madre. È venuta a trovarti e ha detto anche che vuole portarti con sé perché pensa che tu stia soffrendo molto senza di lei. Davvero? Questa donna pensa che io mi getterò tra le sue braccia dopo 16 anni, quando fino ad ora non si è mai ricordata della mia esistenza. È solo che tuo padre mi ha proibito di vederti? Ma ora sei grande e puoi decidere da sola con chi vuoi vivere. Ma sicuramente non con te. Mio padre mi ha raccontato tutto. Quindi non sperare che io possa provare affetto per te. Puoi andartene e non tornare mai più. Forse mi permetti di rimanere qui? Potremmo conoscerci meglio. Ti insegnerei a fare le torte. Mio padre non mangia torte e so cucinare senza il tuo aiuto. Mia nonna mi ha insegnato tutto. Quindi scusami, non ho bisogno di te. Si girò e andò nella sua stanza. Valerio guardò l'ex moglie e disse. Con le tue torte hai rovinato la vita sia a me che a nostra figlia. Sai, se non sapessi cucinare, non ci avrei nemmeno fatto caso. Ma eri ossessionata dalla tua cucina e non mi prestavi alcuna attenzione. E sai, se non fosse stato per me, non saresti nemmeno riuscita a portare avanti una gravidanza in modo normale. Sei una donna inutile, quindi per favore lasciaci in pace. Natalia si iscrisse all'università. Gli affari di Valerio andarono a gonfie vele. Le sue verdure venivano acquistate con piacere e aveva già iniziato a costruire serre per rendere felici le persone tutto l'anno. Era felice di finalmente fare ciò che amava, di avere una figlia così meravigliosa. E non aveva bisogno di nessuno. Aveva smesso da tempo di prestare attenzione alle donne. Per lui il lavoro era diventato sia moglie che amante. Natalia venne a trovare il padre nel fine settimana con il suo fidanzato, che le aveva già chiesto di sposarlo. Valerio vedeva che si amavano e non era contrario, vedendo quanto fosse felice sua figlia. Teodoro si aggirava per il mercato, cercando la sua prossima vittima. Viveva di furti da un anno, perché non sapeva fare altro. Era cresciuto in un orfanotrofio, di cui non voleva nemmeno ricordare. Non aveva amici lì, e non solo lui. Tutti i bambini cercavano di stare per conto proprio. Sembrava loro che così fosse più facile sopravvivere. Fu molto contento quando finalmente riuscì a uscire da lì e sapeva che non ci sarebbe mai più tornato. Non aveva un posto dove vivere. Nessuno lo assumeva senza istruzione. E non aveva senso iscriversi a qualcosa, perché non aveva istruzione. Nell'orfanotrofio Gli insegnanti cambiavano costantemente. Nessuno voleva lavorare lì. E i bambini non studiavano per mesi una materia in attesa del prossimo insegnante. All'inizio era difficile, non aveva un posto dove vivere e aveva sempre fame. Andò al mercato, non sapendo cosa fare, e si aggirava vicino al parcheggio. Improvvisamente vide che un uomo che usciva dalla macchina fece cadere il portafoglio. Ma non se ne accorse. Teodoro lo raccolse rapidamente, felice di trovare una somma consistente che gli avrebbe permesso di vivere parecchi giorni. Il primo impulso fu di restituire il portafoglio, ma poi ricordò come recentemente aveva aiutato una vecchietta che aveva fatto cadere una banconota senza accorgersene. Dopo aver tentato di restituire i soldi alla nonna, lei lo colpì dolorosamente con il bastone e lo accusò di aver cercato di rubarli, ma di non esserci riuscito. Quel giorno affittò una stanza, fece una doccia, andò per negozi e si cambiò. Non prese molte cose con sé, perché con la sua vita da vagabondo sarebbero state solo un intralcio. Capì che doveva frequentare posti affollati, dove la gente andava con i soldi. Lì spesso si distraevano e poteva rubare un portafoglio dalla tasca, oppure, quando il venditore andava a prendere un'altra cassetta di pomodori, poteva prendere i soldi dalla sua cassa. Insomma, poteva guadagnare qualcosa. E Teodoro iniziò a frequentare i mercati ogni giorno. Natalia era incinta, e Valerio era felice perché presto sarebbe nato un nipote o una nipotina. Sapeva che sua figlia era in ospedale sotto osservazione, perché la sua salute non le permetteva di portare avanti la gravidanza senza l'intervento dei medici. Finalmente i nove mesi erano passati, e il marito di Natalia chiamò Valerio per dirgli che sua moglie stava per partorire e che presto sarebbe nato un figlio o una figlia. Natalia partorì una bambina, ma la cosa più spaventosa era che lei era in gravi condizioni e priva di coscienza. I medici lottavano per la sua vita, era entrata in coma e l'avevano trasferita in terapia intensiva. I medici dissero che avrebbero fatto tutto il possibile, ma che probabilmente, se si fosse svegliata, sarebbe stato meglio che andasse subito all'estero, dove avrebbe avuto una possibilità di guarigione. Valerio scoprì che l'operazione che doveva aiutare sua figlia a sopravvivere costava una cifra enorme, ma sapeva che avrebbe fatto tutto il possibile per far sì che sua figlia restasse in vita. Vendette la casa dei genitori in città e li portò a vivere con lui. Non poteva ridurre i lavoratori nelle serre, anche se suo padre e sua madre dicevano che l'avrebbero aiutato loro stessi. Vedeva che erano già anziani e non avrebbero resistito a lungo, così rinunciò a quell'idea. Licenziò due venditori e iniziò ad andare al mercato lui stesso per vendere i suoi prodotti. Finalmente riuscì a raccogliere l'intera somma necessaria. Valerio si stava preparando per andare al mercato e decise di portare con sei soldi. La sera sarebbe comunque andato in ospedale, così dopo il lavoro sarebbe andato direttamente lì e avrebbe consegnato tutto, e avrebbero portato sua figlia all'operazione. Pensò un po' e decise di scriverle una lettera, perché non permettevano di vederla e sapeva che non l'avrebbe vista. Mia cara Natalia, figlia mia, ti prego di perdonarmi. Anche se ho cercato di fare in modo che non ti mancasse nulla, ora capisco che la cosa più importante nella vita non l'hai mai conosciuta. Non hai avuto l'amore di una madre, di cui ogni bambino ha bisogno. Perdonami per questo. Voglio che tua figlia cresca con l'amore che solo una madre può dare. Non voglio che la mia nipotina venga cresciuta come te, da nonni e dal padre. Nessuno potrà mai sostituire la mamma, e ti prego di guarire per noi, ma soprattutto per tua figlia. Ti mando la somma necessaria e, se sarà necessario, ne raccoglierò altrettanto. L'importante è che tu torni da noi. Ti bacio. Il tuo papà. Teodoro lesse la lettera. Inizialmente non si rese nemmeno conto che, mentre leggeva, le lacrime gli scorrevano dagli occhi. Non sapeva che i genitori potessero amare i loro figli, e che il venditore, al quale aveva rubato il portafoglio, non era colpevole del fatto che Teodoro non aveva avuto fortuna nella vita. Che non aveva mai visto i suoi genitori e non sapeva se fossero vivi o meno. Pensava che tutte le persone fossero egoiste e pensassero solo a se stesse, ma non era così. Esistevano ancora nel mondo bontà, amore, cura per i figli. Tirò fuori i soldi che aveva già messo in tasca e li rimise al loro posto. Sì, lui non aveva mai avuto genitori, ma aveva sempre sognato che un giorno, magari, nell'orfanotrofio, quando tutti erano cresciuti, sognare una cosa del genere era vergognoso. Per come erano cresciuti lì, tutti sognavano altro. Sognavano di uscire, formare una banda, fare rapine, vivere alla grande. Le ragazze dell'ottava classe sapevano già cos'era l'amore e come con esso si poteva guadagnare. In sostanza, nessuno poteva aspettarsi un futuro diverso. Forse, ma forse, bisognava solo volerlo. Essendo ormai un mezzo vagabondo, Teodoro pensava che se avesse provato a trovare un lavoro, avrebbe potuto provare un'altra vita. E ci provò, ma non ispirava fiducia a nessuno. Ed era anche troppo giovane. Adesso, però, seduto lì, pensava che aveva una possibilità di compiere un atto umano. Sì, non avrebbe mangiato a sazietà, sì, non avrebbe fatto un bagno, ma era davvero questo l'importante? Per lui era importante, ma per un altro, una persona completamente innocente, Teodoro poteva significare la morte. E quella persona era amata, amata e sofferta, mentre lui, lui non era nessuno e non serviva a nulla. E nessuno avrebbe sofferto per lui. Riflettendo ancora una volta, Teodoro si alzò decisamente e si diresse al mercato per trovare quell'uomo. Non dovette cercare a lungo. Lo vide quasi subito. L'uomo stava scaricando frutta vicino a un grande padiglione. Strano, a Teodoro sembrava che fosse abbastanza benestante. Poi si rese conto che probabilmente lavorava lui stesso per risparmiare. A Teodoro venne in mente un'idea. Signore, buongiorno, mi scusi, questo non è il suo portafoglio? Valerio guardò il ragazzo magro che gli porgeva il suo portafoglio. Lo prese e lo aprì. I soldi erano al loro posto. E tirò un sospiro di sollievo. Come aveva fatto a perderlo, dato che in quel portafoglio c'era la vita della sua amata figlia. Grazie, giovane. Non puoi immaginare cosa hai fatto per me. Con il tuo gesto hai salvato la vita a diverse persone. Dimmi, cosa posso fare per te? Non avresti un lavoro per me. Valerio guardò attentamente il ragazzo. L'aspetto non era dei migliori. Si vedeva che non aveva né genitori né una casa normale. Ma gli occhi erano intelligenti e gentili. Vieni, adesso prendiamo un tè e parliamo. Valerio spinse il ragazzo verso l'ingresso del padiglione. Là c'era una venditrice. Caterina, ce la fai? Vorrei parlare con il ragazzo. La donna, che lavorava per lui fin dall'inizio, sorrise. Certo, non si preoccupi. Si sistemarono in un piccolo ripostiglio che, a quanto pareva, fungeva anche da ufficio del proprietario. L'uomo mise davanti al ragazzo una tazza di tè. Pensò un attimo. Poi tirò fuori del salame, del pane e dei pomodori. Tagliò tutto e glielo avvicinò. Teodoro si avventò sul cibo con avidità. Il salame sembrava fatto in casa, perché era così buono che non ne aveva mai assaggiato uno così. Anche i pomodori erano deliziosi. Quando ne addentò uno, il sapore era come se avesse morso un pezzo d'estate. Valerio non intervenne, vedendo che il ragazzo era davvero affamato. Quando Teodoro iniziò a masticare più lentamente e a bere il tè, Valerio cominciò a fargli delle domande. Dopo circa mezz'ora di conversazione, Valerio disse, Bene, sei agli ordini di Caterina. Oggi c'è molta merce. La aiuterai. Io vado in ospedale e poi torno e decidiamo cosa fare. Valerio tornò dopo due ore in ottimo stato d'animo. Il dottore aveva detto che l'operazione sarebbe stata domani e che tutto sarebbe andato bene. Caterina era entusiasta di Teodoro. Non ci crederai, ma non c'è nemmeno bisogno di dirgli cosa fare. Capisce tutto da solo. Allora, ragazzo, ecco il compenso per oggi. Domani mattina inizieremo a sistemare le questioni di alloggio e stipendio. Vuoi dirmi qualcosa? Il ragazzo lo guardò supplichevole. Si agitava come un bambino che non vede l'ora di dire qualcosa. Sì, mi scusi, avete molte conoscenze. Quando ero in orfanotrofio, rubai dal mio fascicolo una foto di mia madre. Penso che non le importi di me, ma vorrei che qualcuno mi aiutasse a sapere qualcosa di lei. Ecco una piccola fotografia. Potreste aiutarmi? Non so come si fa. Il ragazzo gli porse la foto, Valerio la prese e quasi svenne. Aveva visto molte cose nella vita, ma in quel momento provò un tale shock che il cuore gli si fermò per un istante. Nella foto, lo sguardo di Vera, che era stata sua moglie e madre di Natalia, lo fissava. Caterina corse verso di lui con un bicchiere d'acqua. Signor Valerio, tutto bene? Vuole dell'acqua? Bevve un sorso. Teodoro lo guardava spaventato. Mi scusi, ho fatto qualcosa di sbagliato? Valerio fece un rapido calcolo. Teodoro era più giovane di Natalia di quattro anni. Quindi, quando Vera era venuta da loro, lui era in orfanotrofio. L'uomo alzò di nuovo la foto. Teodoro, sai chi è questa? È la mia ex moglie. È la madre di Natalia. Domani mia figlia subirà un'operazione e vi presenterò. Adesso andiamo a casa, non posso lasciare per strada il fratello di mia figlia. Caterina e Teodoro guardavano Valerio attoniti. Finalmente Teodoro disse, è vero? Conosce questa donna? Sì, la conosco, anche se a volte penso che sarebbe stato meglio non conoscerla. Non la cercherò e non ti consiglio di farlo, per non rimanere deluso dalle persone. Allora andiamo. Dobbiamo raccontare tutto a tutti. Contare tutto a tutti. Contare tutto a tutti. Contare tutto a tutti. Contare tutto a tutti.